Fino all'8 settembre prossimo Piazza Grande ad Arezzo sarà off-limits. Ci sono da ospitare ben due giostre del Saracino, quella straordinaria del 27 di agosto dedicata al Giubileo della Misericordia e quella del 4 di settembre della Madonna del Conforto. Il cantiere in Piazza Grande per l'allestimento della Tribuna A si è già aperto. La struttura si estenderà dall'ingresso del Palazzo di Fraternita fino alla Pieve di Santa Maria. Intanto ci sono già tutte le info sul sito ufficiale della manifestazione per quanto riguarda la vendita dei biglietti. Dal 25 di agosto partirà quella per la giostra di settembre. Ci sono però alcune novità importanti per i biglietti riguardanti l'edizione straordinaria del 27 di agosto. I tagliandi, oltre che sul circuito box office toscana e nei locali del Teatro Comunale Pietro Arettino di via Bicchieraia, potranno infatti essere acquistati anche in Piazza della Libertà al centro di accoglienza turistica Benvenuti ad Arezzo. Sul sito della manifestazione www.giostradelsaracino.it ci sono tutte le informazioni su giorni e orari di apertura. È arrivata intanto nei giorni scorsi la bella notizia che riguarda il quartiere di Porta Santo Spirito. Il Dipartimento Ministeriale ha esaminato tutti gli atti del procedimento avviato lo scorso maggio dall'ASL di Arezzo per il problema che aveva avuto un cavallo riguardo l'anemia infettiva che aveva appunto bloccato le scuderie. Il Ministero ha definitivamente chiarito che le scuderie possono tornare libere dal prossimo 25 di agosto. Dopo i dovuti ringraziamenti da parte del Rettore Ezio Gori rivolti anche all'On. Marco Donati, il Rettore pensa ovviamente alle imminenti giostre. Adesso che questa vicenda ha detto sia chiusa positivamente per il nostro quartiere senza soluzione di continuità, proseguiamo il lavoro svolto fino ad oggi con i nostri giostratori, i cavalli e tutto lo staff tecnico per essere pronti ad affrontare le giostre del prossimo 27 agosto e 4 settembre. Grazie. Grazie. Grazie.